buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale si è appena conclusa scusate la partita la garibaldi stadio romeo anconetani pisa brescia finita 1 a 1 bene la squadra di marian quindi nuovo allenatore e brescia si porta a casa a questo punto all'arena garibaldi con bernason quindi va a pareggiare la partita quando il pisa praticamente all'inizio della partita ha avuto il pallino in mano avuto il pallino in mano io direi un buonissimo primo tempo per per quanto riguarda pisa alla al quinto moreo su assist di lisandro tramoni pisa ma in vantaggio poi le solite paperate diciamo così in difesa fra fra le verbe da canestrelli e quindi si regala diciamo così la rete e questo punto prendiamo questo punto quindi si regala un punto al brescia e quindi noi se ne perdono due io poi nel secondo tempo brescia ha preso mano il pallino noi siamo andati in calando poi le sostituzioni secondo me non hanno dato l'esito bravo ad alessandro l'unico che è entrato e ha fatto vedere qualcosa nazi proponibile nazi proponibile vignato solito vignato nell'ombra e niente nel nulla andiamo avanti così insomma fondamentalmente poi alla fine della partita si fa una sostituzione ma si leva e steve se si mette calabresi per quattro minuti non lo so ora abbiamo preso questo vizio no si cambiano i recuperi vabbè si vede che con la paura di perdere facciamo i cambi vabbè allora andiamo a vedere nicolas io direi se è mezzo bravo poi le occasioni ha fatto fatto bene ha parato insomma c'è stato anche il rischio è nostro portiere ci ha messo che ha messo la mano per u8 6 alla fine perché lotta alla fine insomma è una prestazione io direi fra alti e bassi è tra alti e bassi e quindi comunque insomma in totale nel complesso io darei un 6 canestrelli cinque e mezzo che commette un errore grave insieme alle verbe insomma rispito ma alla fine fra canestrelle le verbi direi cinque e mezzo sia uno che all'altro questo è quello che insomma quello che ho visto io steves steves 6 perché spinge tanto spinge tanto mi piace spinge solo che è vero che però insomma nella ripresa poteva insomma fare qualcosina di più perché poi si spegne piano piano si spegne calabresi subentrato al 91esimo senza voto perché ha giocato praticamente niente non ha toccato un pallone quindi va bene così piccinini 6 la sua gara è stata apprezzabile nonostante oggi qualche passaggio a vuoto sbagliato qualcosina qualcosina di troppo secondo me però insomma in definitiva una una sufficienza piena barbaris cinque e mezzo non mi piace non mi piace non mi piace purtroppo è mancato marine ma secondo me barbaris non è non è di qualità diciamo alla portata di marina sicuramente quindi per me è un cinque e mezzo il trattonaggio cinque e ma proprio vorrei di bene per non dire cinque questo questo è questo io non lo so sui giocatori va bene così d'altra parte tramoni tramoni bravo lisandro sei e mezzo perché confeziona l'assist per per moreo e poi cresce quindi in crescita quindi per me poi colpisce anche una traversa tra l'altro quindi per me un 6 e mezzo bello piano valoti valoti oggi cinque e mezzo direi in ombra totalmente in un non è il valoti che abbiamo visto la scorsa partita sicuramente nel valoti che abbiamo visto bozzano tanto per essere tanto per essere chiari quindi cinque e mezzo insomma ecco poi moreo moreo oggi bravo moreo con segnato poi è andata male perché ha toccato prima lui con la mano anche se è di rimbalzo secondo me però toccato prima la parola con la mano l'arbitro sono c'era c'era sicuramente rigore ma ha toccato con la mano prima lui poi insomma è stato l'autore della rete e quindi io direi moreo oggi bravo 7 darei un bezzetto alla fine perché è stato uno dei migliori in campo torre grossa torre grossa 6 e mezzo bravo mi è piaciuto mi è piaciuto perché insomma si è impegnato e ha fatto vedere qualcosa oggi ha fatto tanti tanti passanti assist insomma alla fine ma bravo secondo me oggi torre grossa un bezzetto e mezzo piano tutto gli occhi cinque e mezzo meno presente incisivo sicuramente di torre grossa che è andato a sostituire aquilani lani e mezzo a cui l'anio in cui e mezzo perché quando è il momento di cambiare non si cambia quando è il momento di togliere chi devi togliere non lo vuoi togliere quindi conseguenze per me cinque e mezzo poi possiamo parlare per l'amor di dio scrivete commentate perché io sapete io rispondo e se dico sì giusto io per l'amor di dio per me e cinque e mezzo aquilani in cinque e mezzo non non va bisogna dare continuità risultati quando quando si scende conferenza stampa si dice la continua risulta ma chi lo dici a te stesso lo dici alla fine aquilani parla per se stesso se la se la canta e se la suona no ecco questo discorso oggi era una partita da vincere ma alla grande era una partita da vincere ma non si finalizza come al solito non si trova al finalizzatore non si trova chi la butta dentro quindi perché le occasioni abbiamo avuto abbiamo tante di là al di là di torre grossa rovesciata della traversa legni però di occasione abbiamo avuto una miriade e quindi devi sfruttare le occasioni ma giustamente chi le sfrutta punta non c'è centravanti non c'è quindi ma chi te le sfrutta ma chi chi te le sfrutta beh detto questo tanto è sempre quella la 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 minestra insomma poi insomma avremo a cremonese in casa dopodiché ci abbiamo palermo catanzaro ma stiamo a vedere staremo a vedere per l'amor di dio e che dire stasera c'è terzo tempo terzo tempo con matteo quindi non perdetevi il terzo tempo live va bene se vi è piaciuto questo video pollice su mi raccomando commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi ricordo una cosa il pisa resta e tutto il resto passa a più tardi grazie a tutti